Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, finalmente dopo secoli e secoli farò partire il contest per i 2.000 iscritti, sono arrivato a 2.026 con quasi 1.300.000 visual, quindi colgo anche l'occasione per ringraziarvi, non vi ringrazierò mai abbastanza, ringrazio quelli che mi seguono, quelli che mettono mi piace, tutti quanti, non sarei arrivato a questo punto senza di voi, sono felicissimo dei risultati, non potrei chiedere di più, ho avuto anche la partner, quindi diciamo che le cose vanno discretamente bene, spero di continuare sempre a crescere, io non smetterò mai di caricare video, vi accontenterò sempre, cercherò sempre di migliorarmi e così insomma. Allora ritorniamo al contest, dico subito che durerà una settimana, io penso che sia un tempo abbastanza fattibile per il video, insomma penso che in una settimana uno riesca a fare un video, non serve che fate video di mezz'ora, insomma. Allora il contest sarà ovviamente su dei video di giochi, potete fare, anche se so che tutti quanti faranno farming, perché non esistono altri, pure potete fare farming, potete fare insomma qualsiasi gioco che volete. Allora il video deve essere fatto, praticamente non deve essere già un video fatto prima, deve essere fatto apposta per il contest, è caricato praticamente da partire da domani. Niente, se avete la libera scelta potete fare quello che volete, insomma mi raccomando con la durata del video che non sia di 25 minuti e neanche di 2, che sia una mezza via, insomma, pensateci un attimo, siate un po' originali nelle idee, non fatemi video, insomma, vabbè, siamo capiti, sono anche abbastanza un po', diciamo, non esigente, ma abbastanza delicato sui video, come avete potuto vedere, e niente, spero partecipiate in tanti, ci saranno, vi dico subito, solo 3 vincitori, sarà il primo, secondo e terzo posto, al primo posto verrà regalata una key, per dei giochi, che sceglierà, cioè un gioco, che sceglierà ovviamente il vincitore, perché non mi va di scegliere, di scegliere per lui, insomma, quando decreterò il vincitore, mi contatterà tramite, tramite messaggio, tramite YouTube, e mi dirà che gioco vuole, ci sono 5 giochi in palio, tra virgolette, c'è Burnout Paradise, l'Ultimate Box, che praticamente comprende le macchine, ci sono delle macchine più potenti, io l'ho anche, diciamo, anche giocato tempo fa, poi c'è Crysis 2, il Maximum Edition, che dico, ho detto, cioè, è uno di questi magari motivi che dico di far scegliere al vincitore il premio, perché magari uno non ha un pc abbastanza potente per far girare Crysis, e io metti caso che sceglierei Crysis, e poi l'altro ti trova col gioco che fa 15 fotogrammi, e non mi sembra, cioè, non mi sembra corretto, preferisco che scelga lui, poi c'è Medal of Honor, Mirror Sage, e Command & Conquer, che è uno strategico, non sono un gran che, ma comunque sono sempre key di giochi, quindi, se saranno scaricabili da Steam, riscattate la vostra key, e vi si scarica il gioco, ovviamente, poi, quando ci sarà il video del vincitore, vi spiegherò tutto meglio, come fare e tutto. E, ok, non altro a dirvi, vabbè, adesso questi giorni, questa settimana, sono in giro per le campagne a registrare, a filmare i video dei trinciati, che, come avete visto, ne ho già caricati 3-4, adesso vi mostro, ne ho uno, due, tre ancora, ne sono già caricati e sono privati, quindi, ne arriveranno ancora la settimana prossima, questi qua ve li pubblicherò giorno per giorno, e niente, spero, sì, vedo che comunque le visual vanno abbastanza bene, deduco che sono molto, anche richiesti, che sono arrivato anche a 1.600 visual, ormai neanche, sì, nel giro 24 ore, quindi, bene, e, ok, basta, non c'è altro da dirvi, no, ah, rinnovo l'invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook, per chi non l'avesse fatto, ho già raggiunto i 454 mi piace, qui, come vedete, carico il link dei video, oppure potete anche restare informati sui video che caricherò, su, magari vedete anche qualche foto, che su YouTube non vedete, tipo, qualche screen del gioco, eccetera, sì, insomma, se, se mettete mi piace, mi fa, mi fa solo piacere, e, ok, basta, non, non, non c'è altro, vi ripeto, il console durerà una settimana, quindi, penso abbiate tempo, abbiate tempo per fare il video, poi finita la settimana, ovviamente farò subito, darò un'occhiata a man mano i video che, che verranno pubblicati, ah, per pubblicare il video, ve lo dico, per chi non lo sapesse, dovete praticamente andare sul video del contest, che comparirà sui video caricati, ovviamente, dovete andare in descrizione, un attimo che ne trovo, ne trovo per esempio questo, andate sotto, e vedete che c'è scritto quando lasciate un commento, fate crea video di risposta, e vi compare la lista dei vostri video che caricate, e lo mettete in risposta a questo video, cioè non a questo, ma a quello del contest, ovviamente, penso sia ovvio. Ok, niente, vi lascio, vi ringrazio ancora tutti, ringrazio gli iscritti, ringrazio, vi ringrazio infinitamente tutti, e vi auguro un buon lavoro, mi raccomando, fate, pensateci un attimo, fate le cose, fate, fate bene, e per, stavo dimenticando di dirvi che per il primo, per il primo posto ho detto che farò la key, dopo per il secondo e il terzo, vedo, vedrò un attimo, penserò questa settimana cosa poter fare, comunque ci sarà sicuramente una sponsorizzazione del canale, del vincitore del secondo e il terzo, e dopo vedrò un attimo cosa poter fare di decente. Bene, vi lascio, se non avete capito qualcosa, ma penso che sia semplice, insomma, non c'è niente di che fare, vi risaluto e buon lavoro e ciao a tutti!